Kendall, tu hai il fuoco. Hai anche un grosso problema di controllo della rabbia. Alcune dicono che anch'io ho problemi di controllo della rabbia, ma io ho anche cinque case! People say I'm the love of the party. Smettila, per favore. Non parlo mai più bene. Grazie. Kendall, siamo stati in 22 città. Abbiamo sentito più di 20.000 persone. Gustavo ha scelto te. Ma non sono un cantante. Canti continuamente. In macchina, a tavola. Canti quando non riesco ad addormentarmi. Ma non è vero? Sì, è vero, tesoro. Quando spali il vialetto. Quando hai aperto la porta due minuti fa. Ma quello non è cantare, dai. Invece sì, tesoro. Anche le canzoni che trasmettono su 90's channel. Allora, che ne dici, ragazzo, eh? Ti va di venire a Los Angeles per essere modellato in una grande e immortale star dal mitico Gustavo Rock? No. Allora, che ne dici, ragazzo, 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 ragazzo. Allora, che ne dici, ragazzo, 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 ragazzo. Allora, che ne dici, ragazzo, ragazzo.